Buongiorno, mi trovo in possibilità di rispondere al telefono in questo momento, ma lasciate un messaggio dopo il segnale acustico e vi richiamerò appena possibile. Arrivederci, Rossella. Mamma, sono Riccardo. Dopo cena passo a portarti la teglia della torta. Mi raccomando, aspetta mi sveglia, eh? Ciao, ciao. Grazie a tutti.